Musica Direttore, c'ha sporata di gusto, c'ha sporata di successo La prima del 2014 Dove va quel signore lì? Dove va lei? Gratidissimi ritorni No, io sono stato troppo impegnato l'anno scorso per i festeggiamenti della Ferrovia Lifana che non mi ha lasciato, prego, adesso è finita e posso tornare a fare le mie normali e ordinarie attività Un rimprovero, Gianni, senza telegramera Qui c'è un barbone, sta bene? Allora? Un barbone è un doppio senso Un barbone nel senso proprio di un uomo barbuto Lei da dove vieni? È antifreddo Lei viene dalla Cosa delle Nevi, di qualsiasi qua vicino che abita qui Sardegno Prima di prendere la guida dell'escursione voglio dare il benvenuto a tanti che sono tornati qui Gli amici di Salerno Grazie, grazie Vediamo, altri nuovi dov'è? Vediamo un po' qui Eccolo qua, cercavo un gradito ritorno in particolare Grazie, grazie di essere tornati a Marese Abbiamo qui Salvatore Mondella Salvatore scusami però Il grande Paolo Gratidissimo ritorno Caro Presidente Grazie Grazie Allora, come Paolo? Bellissimo Organizzato meraviglioso Raccolgo sempre delle impressioni Tu e netto siete dei veri professionisti Ma va dai Vabbè, la chiudiamo qua Vabbè Chiudiamola qua Se no sembra una cosa concordata Allora, vediamo chi altro c'è Diamo il benvenuto al comandante qui Che era un po' scettico Ma finalmente ce la fa Abbiamo la Preside Preside Quali sono le impressioni? È un posto meraviglioso Mi sembra di rinascere Ci fa piacere Ci fa piacere Abbiamo naturalmente Abbiamo il piacere di avere anche Anche la stampa Il nostro carissimo Gianfrancesco A cui diamo un particolare benvenuto Sono io Visto che te ne vuoi andare Gianfrancesco A dopo per le altre impressioni Vediamo un po' Signore mi pare che già sono venuti altre volte Gratidissimi ritorni Sì, bellissimo Bellissimo C'è una voce qui Il grande Mario Travaglini Grazie, grazie per il grande E tutti i suoi amici Con il coglolo Abbiamo qui anche Un rappresentante della nostra terra Solo paga Dovete riprendere lo che sarà impigliato Vedo che sta un po' in difficoltà Chiudo questo e dopo ripartiamo decisamente per la nostra escursione Un saluto anche alle cambiente Doveroso Qui nella persona del presidente Nando Brevissima Niente, veramente dobbiamo ringraziare L'associazione Ciclèb Fondo Matesi Ma vada L'associazione che cura la pubblicazione In vita turistica Scusa Matesi Scusa Matesi Ecco il nostro Il nostro reporter ufficiale Quando c'è lui E lui ufficiale Perché effettivamente Questa tradizione Nelle Ciaspolate Sta ormai da qualche anno Riscutendo Un grande successo Ma bene Portando molte persone a conoscere Sì, no Venere noi Perché abbiamo Guarda Sempre dei graditi di tutti E uno E chiudo qui E la nostra carissima Ottavia Che io ho sempre detto Ottavia Che è Immagino La sorella di Augusto Dai Ottavia Che c'è da camminare Chiudiamo qui con una nuova Mi pare La prima volta La prima volta La seconda Graziella Dove viene Da Giuliano Giuliano Perfetto Allora noi adesso Camminiamo E poi ci vediamo dopo Allora noi adesso